Qua siamo di fronte a una tagliata, di che si tratta? Questa è una tagliata di Diff, tenerissima, veramente allevata qua nell'azienda di Sperano Leonardo che c'è la macelleria Pura Piano, veramente numero uno. E sta praticamente sulle montagne di Vichequenze. Quindi usiamo prodotti locali e genuini, ottimi veramente. Ragazzi, non ci resta che venire qua, guardate che bellissimo posto, le grottelle. È sorrendo ma siamo alle porte di Sant'Agara. Grazie.